Che cos'è la felicità? Gisella, secondo te... No, no, tu, Dario, hai detto tu. Dai, Dario, già c'è la risposta. Cos'è la felicità? Penso che sia... Qualcuno una volta ha detto il tempo. Il tempo è la condivisione. Donne, questa è la risposta impegnata. Poi Gisella? Ma svegliarmi, per me la felicità è svegliarmi la mattina dopo che ho fatto un bel sogno. Quindi inizia bene la giornata, sono felice. Per me la felicità è coricarmi nelle lenzuola pulite. Per me la felicità è accorgersi per caso di aver raggiunto un obiettivo senza... È bello. Sentirsi soddisfatti. Sì, sì. Sentirsi bene. Fare un viaggio. Ha più cose. Ha più cose, mi ha detto. Non lo so, mi ha detto. Ciao. Eh, bella domanda. Che cosa ci serve per essere felici? Boh, uno specchio fa sempre bene. Cioè, quando ti vedi, ti prendi quanto che sei felice. Ma comunque, che puoi essere anche un'altra persona. Cioè, sì, da soli... Non ci puoi essere felice. Ci vuole qualcun altro per essere felice. Ci vuole qualcun altro per essere felice. Ci vuole qualcun altro per essere felice. Non condivido. Non avevo dubbi. Perché venire al PIM? Come artisti, sicuramente si ha la sensazione di essere protetti. coccolati e in un luogo bello. Dove lavorare... Cioè... Dove il lavoro è riconosciuto. Sì, sì. Ieri mentre vamo qui in... Ticco, in camerino per ricominciare, ho avuto la percezione chiarissima che stessimo lavorando. Questo comunque, quando si fa il nostro mestiere, non è proprio una cosa da tutti i giorni. Sì, aggiungerei che la sensazione anche bella è quella di casa. È una casa, però, dove c'è un gruppo di persone che lavora insieme. E quindi, per me, per noi, penso che sia stato bello individuare qui dentro delle persone che erano insieme a noi in questa storia. Non eravamo stati invitati e poi lasciati così. Cioè, una condivisione vera. E perché si dovrebbe venire al PIM? Da pubblico? Per vedere spettacoli come il nostro. Ma come? Quindi potrebbe essere... Perché c'è l'aperitivo. Uno dei motivi. Io non ci sono mai stato come spettatore al PIM, quindi non sai più dirlo. Però mi piace davvero vedere uno spettacolo al PIM. Qual è il prossimo spettacolo? Il prossimo spettacolo al PIM. È il prossimo spettacolo. No. Grazie a tutti